Cara nonna Cara nonna Oggi il mio pensiero va a te Perché voglio manifestarti tutto il mio effetto e la mia gratitudine Perché oggi, grazie a te, sono una donna libera 8 marzo 2016 Cara nonna Oggi il mio pensiero va a te Perché voglio manifestarti tutto il mio effetto e la mia gratitudine Perché oggi, grazie a te, sono una donna libera 8 marzo 2016 Tuo un punto Grazie a te, sono una donna libera Donna libera